Sei un consumatore appassionato che vuole ottenere un'esperienza superiore in alta definizione, compresa la connettività internet sulla tua grande tv a schermo piatto? Vuoi anche la flessibilità di mettere la tua tv dove vuoi senza preoccuparti della limitazione della distanza? Però non sei un esperto nel collegare molti cavi diversi alla tv per ottenere tutto questo? O forse sei un installatore professionale audio-video per mercati come college, aeroporti o centri commerciali? Il tuo problema è sempre stato l'ingombro dei cavi, la distanza limitata, i costi elevati e i nuovi cavi che escono ogni giorno. Ti sembra di essere in una situazione senza speranze con tutto questo caos dei cavi, giusto? Bene, non temere, il potere di HDBaseT è qui. Solo un cavo sostituisce tutto. Si inserisce direttamente nella tv e nel muro. Una vera soluzione con un singolo cavo al potere di fornire video ed audio ad alta definizione non compressi, ethernet e fino a 100 watt di potenza alla tua tv in qualsiasi posizione desideri su un cavo CAT5 standard. I consumatori e gli installatori possono ora festeggiare perché hanno un nuovo eroe. Questo è il potere di HDBaseT ed è solo un clic di distanza.